salve salve da marco calabro per conto di amaci casa italia quello che stiamo vedendo è un orologio diesel e è un orologio diesel andiamo a vedere l'etichetta eccola qua un orologio diesel che ha un codice di z 18 64 e un costo proposto dal dal produttore di 219 euro andiamo a vederlo è un orologio molto gradevole a una base satinata vediamo all'interno della cassa il la scritta diesel che è una scritta in celeste un celeste elettrico molto gradevole che viene richiamato dall'indicatore dei secondi che vediamo che si sta muovendo le due frecce delle ore dei minuti sono degli indicatori invece in degli indicatori in stile daga romana spada romana vediamo che l'orologio ha poi dei richiami specifici perché sono state create degli incavi nelle indicazioni delle ore 12 delle ore 3 delle ore 6 e delle ore 9 però vediamo che nell'indicazione delle ore 3 vediamo che è stato creato un effetto sul cristallo dell'oggetto in modo da ampliare l'indicatore delle ore che vediamo scusate l'indicatore dei giorni che vediamo con la data 4 l'oggetto è veramente veramente gradevole vediamo la cassa esterna che è un acciaio satinato vediamo il prendo l'oggetto in mano vediamo il cinturino che è un cinturino in acciaio lucido o molto tradizionale vediamo che ha l'attacco a spillo lo capiamo dalle dei due attacchi che ci stanno ed è coperta la parte in questo momento dalla da questo aderente antigraffio è coperta la parte interna dove c'è la scritta diesel questo oggetto è veramente un oggetto gradevole l'ultima cosa che voglio far vedere eccolo qua vediamo qui il brand di diesel sul sulla rondella di attacco vediamo che in questa parte la cassa è anche personalizzata richiamando la parte eccola qua la parte delle delle tre quindi la parte dove sta sta indicata allora stavamo parlando andiamo a vedere nuovamente del dz 1864 di diesel con un costo proposto dall'azienda di 219 euro grazie sempre per ascoltare i video di amaci casa italia e arrivederci al prossimo video